Almeno una volta nella nostra vita dobbiamo prenderci del tempo per compiere un lungo viaggio alla scoperta di altre realtà. Certo, trovare i soldi e il tempo non è facile, per questo vogliamo condividere con voi le strategie e gli espedienti che ci hanno permesso di viaggiare e di essere liberi per circa otto mesi per l'Italia del Sud, nella maniera più lenta ed economica possibile. Un'avventura per conoscere nuovi posti, per incontrare nuove persone, per vedere se esistono nuovi modi di vivere, più vicini ai nostri valori. Un viaggio per avere nuovi occhi.